cari amici e cari amiche di ciclo web e delle sane letture ciclistiche molti volumi in arrivo nei prossimi giorni sul nostro e commerce store.cicloweb.it ma intanto abbiamo da presentare i libri di stasera e abbiamo da parlare del libro del mese ancora lui fagianate scatti e scie libro del mese espressione usata nelle nostre telecroniche quando generalmente su una salita spesso decisiva per i destini della tappa il gruppo si sbriciola pian piano un tritello grazie ai ripetuti attacchi degli uomini di classifica si assiste a una vera festa del ciclismo come il veglione di capodanno appunto che salta i tifosi e i telespettatori questo è il veglione del tritello una delle tantissime voci che trovate su fagionate scatti e scie il libro di riccardo magrini e luca gregorio edito da rizzoli prefazione di paolo condo non ve l'avevo detto forse o forse sì ma lo ripeto che fa sempre bene c'è anche un appendice con tanti soprannomi di corritori alcuni soprannomi storici altri soprannomi coniati dal dall'impavido magrini nelle telecroniche di tutto sport un ulteriore capitolo simpatico di questo volume che il nostro libro del mese fagionate scatti e scie il libro del mese che vi mandiamo con uno dei nostri porta chiavi il quarto me è caduto va bene pazienza facciate scatti e scie rizzoli editore libro del mese di ciclo web che due libri vado a presentarvi oggi negli ultimi arrivi il primo parla di un corridore di cui tutti conosciamo il nome il soprannome ma di cui scommetto sappiamo pochissimo io ne sapevo pochissimo al di là di qualche presenza negli albi d'oro insomma perché è un corridore la cui carriera la cui vicenda umana si perde nella notte dei tempi parliamo degli anni 10 20 30 tano belloni gaetano belloni tano belloni l'eterno secondo in questo volume tano la busca e non vi spiego cosa significa che lo troverete nel libro o anche nella quarta di copertina se avrete la pazienza di ordinarlo questo volume di carlo delfino compianto e giampiero petrucci edito da edizione il fiorino il ciclismo di caetano belloni eterno secondo che sapeva vincere ci racconta proprio la storia di questo personaggio a dir poco affascinante un corridore che cercava i successi su strada si confrontava con i campioni dell'epoca da girardengo a brunero e tanti altri e poi seppe anche trionfare su pista diventando un grande personaggio in america negli stati uniti un latin lover forse si dice insomma piaceva piaceva alle donne piaceva ai tifosi era simpaticissimo un grande personaggio anche dopo che smise di pedalare restò nell'ambiente come direttore sportivo e poi anche dopo la seconda guerra mondiale era uno dei grandi animatori della carovana rosa del giro attivo anche come organizzatore in pista insomma una carriera ciclistica a 360 gradi per un personaggio che abbiamo l'obbligo di riscoprire perché dai stanno belloni eterno secondo e poi non sappiamo nulla di lui tano la busca delfino petrucci edizione il fiorino il secondo volume che vi presento è un libro bizzarro a dir poco l'ha scritto il nostro amico beppe conti uno dei suoi tanti volumi edito come gli altri da grafot edito edizioni e questo libro dell'anno scorso si chiama mangiare bere e pedalare i ristoranti del grande ciclismo è una guida sui generis a suo modo una guida ai ristoranti la guida di ristoranti in un periodo in cui diciamo la gastronomia in televisione preponderante ovunque ci sono programmi sui ristoranti ristoratori cuochi chef e quant'altro beppe conti ha illustrato in questa carrellata tutta una serie di ristoranti legati al ciclismo perché appartengono a ex corridori oa personaggi del ciclismo vicini al ciclismo per esempio ho scoperto che marco saligari commentatore anche della di rai sport possiede un ristorante e non è solo oppure ristoranti in cui si sono svolti degli incontri importanti in ambito ciclistico perché sapete che se ne fanno di genere il ciclismo soprattutto a livello politico ci si trova spesso a tavola oppure ristoranti che erano frequentati o che sono frequentati da corridori ogni ristorante insomma di quelli che ci presenta beppe conti insieme anche a un proprio una presentazione più strettamente gastronomica sulle prerogative sulle specialità del ristorante di turno ogni ristorante insomma è legato a doppio filo al ciclismo a qualche storia di ciclismo conti ovviamente ci sguazza e ce le racconta tutte quante in questo bel volume cartonato e quadrato mangiare bene mangiare bere e pedalare mangiare bene pure non fa male va bene beppe conti mangiare bene e pedalare i ristoranti del grande ciclismo grafo tornava il ciclismo tornava il tista dopo mesi di inattività cure esami sfortuna alla presentazione del giro in pochi ebbero dubbi torriani lo aveva pensato e voluto su misura per francesco mosè arrivò secondo la gueglia battuto da franco bitossi approdato alla zonca santini dopo gli anni trascorsi alla chic sfiorando così il bis dell'anno precedente erano passati solo 12 mesi da quel trionfo a braccia alzate con la folla che lo osannava e si spingeva per toccarlo e parragli eppure per lui per noi che gli volevamo bene sembrava trascorso un secolo tista disputò una buona tirano adriatico piazzandosi al terzo posto in classifica generale dietro de vleming e merckx appariva più tranquillo dopo lo spavento provato solo pochi mesi prima quando il fegato e l'intera sua carriera sembravano andati in malora per sempre che fosse in discrete condizioni di forma lui che per struttura fisica tardava a carburare a inizio stagione apparve chiaro nella milano sanremo dove tentò di andar via più volte ma senza successo a vincere fu eddi merckx il fuoriclasse belga sapeva che il declino era iniziato e che quello sarebbe stato probabilmente l'ultimo grande trionfo di una carriera straordinaria irripetibile a sua volta freddy mertens astro nascente del ciclismo belga dichiarò eddi andava e noi eravamo lì a guardarlo era uno spettacolo ma scrivetelo io un giorno vincerò questa corsa non ce l'avrebbe fatta a de vleming baronchelli piaceva e molto e ancora un ragazzo sbaglia sovente condotta porta gli attacchi con il preavviso e nel momento meno adatto si vede a vista d'occhio che ancora alla ricerca della giusta misura ma sarà lui tra un paio d'anni a vincere il giro in salita quando avrà maturato la giusta esperienza sarà imbattibile per ora quando va è un piccolo reattore preparategli la strada non criticatelo a sproposito agevolatelo nella sua ricerca nella sua ascesa alle qualità per vincere giro e tour nello stesso anno questo è il momento più delicato per la consacrazione di un campione baronchelli crescerà a livello di assoluta grandezza anche se lo aiuterete a sentirsi amato ed edy merckx fotografò perfettamente la situazione in cui versava il tista voi italiani avete sempre troppa fretta fossi stato anche io uno dei vostri ho paura che sarei affondato prima ancora di emergere ho preso bambole a non finire nel primo anno di professionismo non mi riusciva di azzeccare un risultato e poi tutti erano d'accordo con me nel dire che in salita andavo molto piano ciò nonostante nessuno mi ha mandato allo sbaraglio ho dovuto aspettare il quarto anno per dimostrare ciò che sarei potuto diventare questa e tante altre storie tante altre pagine questa è riferita al 1976 nel libro gp baronchelli 12 secondi volume scritto da giancarlo ianne la comprensione di marco bastonesi per gli asis edizioni grazie a tutti Grazie.